Grazie di essere qui. Io direi di iniziare subito con una preghiera a Maria, perché interceda presso il Signore, perché ci dia coraggio, ci dia e rinnovi la speranza, nonostante la drammaticità del contesto in cui ci troviamo a vivere in questi giorni, in queste ore, in queste minuti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Io sarò molto breve e mi fa piacere di essere qui con voi questa sera, non ho avuto modo di farlo ieri. Sapete che stiamo seguendo intensamente questa emergenza, chiamiamola così, ucraina. Mi dovrò assentare anche tra un po', perché comunque sono costanti i contatti, in particolare con la Prefettura di Roma, per l'organizzazione appunto dell'accoglienza. Io vorrei dire in tre parole un grazie, dire qualcosa sul tema dei diritti e poi lanciare un appello, anzi rinnovare un appello. Un grazie a tutti voi per quello che fate, per la presenza qui questa sera, anche per l'impegno. Diceva Maria Teresa Cincioni, poc'anzi, della difficoltà in cui si è trovata. È umano e comprensibile, ma è uno sforzo che facciamo per fare bene del bene. E questo passa attraverso anche non una conoscenza da esperti di certe materie, ma almeno avere una conoscenza di base indispensabile per fornire le strade giuste affinché ci sia accesso ai diritti da persone che ne hanno particolarmente necessità. Vorrei anche cogliere questa occasione per rivolgere un grazie molto particolare di cuore alle persone che stanno lavorando al manuale operativo da molto tempo, costantemente, che adesso stanno tenendo questi incontri di formazione. Quindi l'iscito in ordine praticamente così amichevole e alfabetico. Anna Rita Lorusso, Beatrice Bruno, Liliana Ciccarelli, Salvatore Geraci, che penso che faccia questa sera, no? Alberto e il suo esordio. Come d'altra parte Beatrice, state tranquilli, andrà bene, perché siete gente brava, preparata, quindi tranquilli e sereni. Alberto Loiacomo, che comunque non solo coordina i nostri lavori, no? Ma di fatto è un punto di riferimento essenziale anche per questo lavoro che stiamo portando avanti. Luigi Lusi e Massimo Suraci, ecco, vorrei davvero ringraziarli di cuore perché dietro a questo servizio che forniamo ci sono persone che quotidianamente aggiornano, integrano le schede tematiche, addirittura ne inseriscono di nuove e svolgono un lavoro eccezionale di monitoraggio nei confronti di ciò che viene varato dall'istituzione a livello nazionale, regionale e locale. Credo che sia bello anche ringraziare. Poi vorrei dire qualcosa sui diritti. Noi parliamo oggi del manuale, di una sezione del manuale operativo dei diritti. È una cassetta degli attrezzi che voi vedrete nel tempo, si diffonderà sempre più perché stiamo prendendo confidenza con certe materie nella convinzione appunto che non possiamo dare per l'emosina ciò che spetta per diritti. Può essere quasi una contraddizione che mentre ci sono milioni di persone sotto le bombe e sono nati circa 50 bambini nei sotterrani bunker di alcune città, noi ci soffermiamo su questi diritti. Non c'è contraddizione. Diciamo che nel manuale operativo dei diritti noi parliamo di diritti quotidiani. Oggi chiediamo la preghiera delle persone, chiediamo il digiuno delle persone, chiediamo la solidarietà delle persone per promuovere e difendere alcuni grandi diritti che non sono esplicitati nel manuale operativo ma che sicuramente hanno un legame con questi grandi diritti. I diritti per cui comunque ci concentriamo anche come comunità ecclesiale sono il diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto alla cittadinanza del popolo ucraino, il diritto alla libertà. Quindi noi pur confrontandoci con diritti che nell'attualità possono sembrare secondari, possono sembrare molto più schiacciate sulla quotidianità, siamo comunque sensibili a diritti più generali, cosiddetti grandi diritti, proprio fondativi dell'essere umano e anche della dignità delle comunità in un contesto universale. Quindi nel momento che siamo sofferenti perché questi diritti, lo ripeto, alla vita, alla dignità, alla cittadinanza e alla libertà vengono messi in discussione a non troppi chilometri da noi, nel mente siamo preoccupati molto, anche per i rischi di una terza guerra mondiale, di una pazzia che rischia di ormai estendersi se non c'è grande capacità di discernimento, se non si unisce alla consapevolezza anche l'emozione del cuore, ma anche la capacità della mente di fare i conti con la realtà. Ecco, noi con umiltà affrontiamo questi temi dei diritti quotidiani, perché appunto non c'è contraddizione, anche se sicuramente i primi hanno una valenza molto più profonda e di carattere universale. E poi vorrei rinnovarvi un appello, un appello a rivolgere un appello nelle vostre comunità. La Caritas di Roma, molti di voi immaginano, spero, che hanno visto sul sito, il materiale, delle indicazioni che abbiamo messo a disposizione. Ecco, io mi sento di farvi un appello affinché ognuno di voi rivolga un appello agli amici, ai parenti, ai conoscenti, alle persone delle proprie comunità parrocchiali, delle proprie comunità religiose, alle associazioni sul territorio. Noi in particolare possiamo fare tre cose. La prima, come credenti, la preghiera, perché quello che sta avvenendo va al di là, forse, della mente umana. Ci porta un po' di angoscia e noi invece dobbiamo rispondere con la speranza, con la fiducia che alla fin fine il bene preparrà. Quindi la preghiera e il digiuno, il primo motivo di questo appello. Il secondo motivo di questo appello è donate soldi. Donate per favore soldi. In questo momento non servono tanto mandare genere alimentare, prodotti di altro genere, a meno che non ci sia una situazione molto particolare. Serve far avere tramite la Caritas di Roma e quindi la Caritas italiana, soldi alle Caritas della Polonia, dell'Ucraina, della Moldavia, della Romania, della Slovacchia che stanno facendo un grandissimo lavoro. Diamo soldi perché quei soldi possono essere spesi subito e bene per tutto ciò che è necessario. Poi serviranno anche per gestire l'accoglienza. Anche qui a Roma ci stiamo attivando in questa direzione. Terzo motivo di appello e concludo, prepariamoci all'accoglienza. prepariamoci all'accoglienza, ad aprire spazi, case, strutture, anche nelle chiese, ovunque, perché, guardate, siamo in contatto con la prefettura, ancora non abbiamo numeri precisi, ma potremmo trovarci a breve di fronte a un esodo di massa. Sono oltre un milione quelli che hanno superato il proprio confine in Ucraina. Moltissimi si sono già fermati nei paesi limitrofi. Alcuni hanno iniziato a venire anche a Roma, presso le famiglie delle persone che lavorano a Roma, come badanti, come personale per diversi tipi di attività. Dobbiamo prepararci a un'accoglienza lunga, non solo immediata, per cui serviranno anche persone che possano accompagnare, stare vicino a coloro che verranno ospitati negli alberghi, che possono aiutare ad apprendere la lingua italiana, che possono aiutare l'inserimento dei bambini negli asili, dei minori, sono tantissimi minori. In Romania ci sono già tredicimila minori arrivati, non si sa neppure che status hanno questi bambini. E siccome è dai 18 anni ai 60 che i maschi vengono bloccati in pace per tentare questa resistenza, ci sono famiglie che stanno mandando via ragazzi di 16-17 anni, purché possano salvarsi. Quindi questo appello anche all'accoglienza, all'accoglienza diffusa in collaborazione con le istituzioni, io vi pregherei di diffonderlo nelle vostre comunità, nelle vostre realtà, perché è inutile in questo momento, poi magari più avanti lo organizzeremo anche noi, è inutile in questo momento per problemi logistici, organizzativi, di costi e di sicurezza, mettersi ad ammassare quantità di genere alimentari, di vestiti, di farmaci, che si corre il rischio che vadano sprecati. Quindi tempo al tempo andate sul sito, c'è anche lì una cassetta degli attrezzi, chiamiamola così, con dei documenti. Oggi penso Alberto abbia pubblicato anche le due schede operative della Caritas italiana che spiega le questioni relativi alla raccolta dei farmaci, dei generi e dei prodotti di vario genere. Ecco, io la finisco, termino così, mi dispiace di non potermi trattenere fino alla fine, vi ringrazio molto, comunque seguirò poi le registrazioni che vengono fatte di questo lavoro. Questo lavoro che noi, che voi state facendo, è attualissimo, sarà sempre più attuale, l'accesso ai diritti, per promuovere una responsabilità anche diretta delle persone, per passare dall'assistenzialismo alla promozione e all'esaltazione di una cittadinanza che sia piena, attiva e responsabile. Poi per tutti coloro che non ce la fanno, noi comunque siamo al loro fianco. Grazie di cuore e buon lavoro. Allora, grazie Giustino, grazie per la tua proattiva partecipazione e grazie anche e soprattutto per il tuo tempo. Dunque, una velocissima carrellata su come operiamo oggi, l'ultima delle giornate di questo corso di formazione. Dopo di me parlerà Salvatore Geraci sulla nuova area tematica della salute. Oggi avremo due nuove aree tematiche. Alla fine del suo intervento, Salvatore, che è il capo area di questa importantissima fra le tante aree della Caritas, farà un breve focus sull'assistenza ai profughi ucraini. Ci sarà uno spazio per le domande e per le risposte, un quarto d'ora, sia a viva voce, sia per iscritto sulla chat. Seguirà poi l'intervento di Beatrice Bruno sulla nuova area tematica dell'accesso alla giustizia, anche questa, ripeto, un'area nuova e un ulteriore spazio per le domande finale. Se il direttore non sarà presente alla fine, qualcuno farà il saluto e una preghiera finale. Poi magari ce lo dirà Alberto. Molto velocemente, visto che l'intervento di prima ci ha fatto pensare che alcuni non entrano. Questa è la schermata che trovate dentro questo indirizzo, www.caritasroma.it slash manuale diritti. È la schermata delle sei aree che trovate, aree tematiche, che trovate dentro il manuale. La schermata sul tema dell'abitare, sulla famiglia, genitori e persone affrontato lunedì, sostegno e arredito affrontato ieri, accesso alla giustizia oggi, salute oggi, pensione ieri. Oggi affronteremo nella parte della salute la scheda V1, se non occuperà, come abbiamo detto Salvatore, è una scheda molto importante, schiedo scusa, è un'area tematica molto importante come tutte, ma diciamo è di quotidiana necessità. Salvatore la renderà più interessante di quanto sto facendo io. Invece Beatrice affronterà tutte queste schede dell'area tematica dell'accesso alla giustizia che è una delle new entry, come ha detto prima il direttore. Ogni domanda che voi ritenete utile fare per queste sessioni potete usare le due modalità che abbiamo detto prima. O pigiate il tasto sinistro del mouse in basso dove è scritto reazioni, cioè in basso una scritta reazioni, e lì premete il tasto su alzare la mano e quindi vi darò la parola, oppure lo scrivete nella chat sempre in basso e lo leggeremo, e leggeremo al relatore e alla relatrice la vostra domanda. Per ogni questione, problemi, suggerimento, proposte, approfondimenti, potete scriverci oppure farci venire, a farci pervenire un vostro feedback all'indirizzo e-mail centrostudi.chiocciola.caritasroma.it ripeto, centrostudi.chiocciola.caritasroma.it e vi risponderemo prima possibile. Allora io a questo punto mi taccio e do la parola a Salvatore Gelaci per l'illustrazione della primaria tematica sulla salute, è la prima di oggi. Bene, grazie Luigi, grazie Giustino, benvenuti a tutti. Vado subito con una presentazione, così accelero i tempi. Ecco qua. Spero si veda, perché io non vedo voi, quindi non so se si vede oppure no. Magari Luigi se mi dai un segno. Si vede, si vede. Perfetto. Allora, abbiamo detto salute, è una new entry ed è abbastanza impegnativa perché la salute è un tema infinito. Ogni momento della nostra vita fa riferimento alla salute, alla tutela, ai percorsi, all'assistenza, sia che stiamo male, ma anche se stiamo bene. Pensiamo a tutta la prevenzione. Oggi è la prima volta, quindi tratteremo di una parte, molto piccola se vogliamo, però è l'accesso alla tutela della salute, quindi la tessera, la riscrizione al servizio sanitario, l'assistenza sanitaria. Anche di questo non parliamo di tutto, perché volevo poi focalizzare l'ultima parte del mio intervento sul tema dell'assistenza ai profughi ucraini. Quindi ho scelto, nel trattare il tema della salute, questo qui è l'indice, ad esempio del V1, quella tessera di assistenza sanitaria, ma ho scelto solamente alcuni passaggi che ci possono essere utili per poi capire quello che si può fare in termini di tutela, quindi di percorsi che possiamo indicare alle persone che arriveranno dall'Ucraina o che sono già arrivate o che stanno arrivando all'Ucraina per poter avere garantita una serie di diritti. Quindi parlerò di tessera sanitaria, parlerò di tessera sanitaria per i cittadini stranieri, gli ucraini, pur essendo in Europa, sono dal punto di vista giuridico degli stranieri, cioè delle persone non appartenenti all'Unione Europea e quindi hanno dei profili di tutela che sono particolari. Parlerò anche degli stranieri temporaneamente presenti, gli STP, che è lo strumento che è stato utilizzato, che viene utilizzato in questo momento per garantire l'assistenza sanitaria agli ucraini e parlerò degli sportelli, del rilascio di questi tesserini STP e gli ambulatori STP che, ripeto, sono funzionali sempre per il tema degli ucraini. In realtà questa scheda è stata scritta prima, chiaramente, della guerra, quindi non c'è nessun riferimento agli ucraini, però fortunatamente il nostro sistema di tutela, sistema di diritti, di fatto già aveva in essere nella sua struttura tutta una serie di disposizioni e di dispositivi che permettono comunque l'accesso ai servizi sanitari anche per questo tipo di popolazione. E questo mi porta alla premessa, è la prima volta che parliamo di diritto alla tutela della salute, quindi forse due parole di premessa bisogna dirle. Noi abbiamo il diritto alla tutela della salute, è un diritto forte, è un diritto costituzionale. Sapete, la Costituzione ha diciamo un'ampia premessa che sono quella dei principi fondamentali, dopodiché c'è la prima parte dei diritti e doveri dei cittadini e nei rapporti etico-sociali c'è l'articolo 32 che è l'articolo che riguarda proprio l'assistenza sanitaria. Ed è interessante questo articolo perché è l'unico articolo nella nostra Costituzione se togliamo i principi fondamentali ed è dove accanto a un diritto si mette il termine fondamentale. Il diritto alla tutela della salute è fondamentale, diritto non del cittadino. Questa è un'altra unicità che è presente nella nostra Costituzione ma un diritto dell'individuo. L'abbiamo imparato, diciamo, l'abbiamo ascoltato tante volte durante il periodo Covid, che cosa va messo in evidenza rispetto ad altri diritti. Il diritto alla salute, il diritto a perdere alcune, anzi, a non poter conservare alcune libertà. Ecco, il fatto che sia fondamentale lo fa mettere in una gerarchia estremamente importante. Però, non basta che un diritto sia un diritto costituzionale. Questo è uno schema dei bioetici, loro dicono non è sufficiente che la Costituzione dica che c'è un diritto, anche se è fondamentale, è un diritto importante, perché poi il diritto deve diventare esigibile, cioè servono delle leggi, dei dispositivi che permettono a quel diritto di essere nella quotidianità. Bene, in Italia questo passaggio dal diritto costituzionale, che viene chiamato come diritto di prima generazione, a un diritto invece esigibile, definito come diritto di seconda generazione, è avvenuto, è avvenuto nel 1978, quindi a distanza di qualche anno dalla Costituzione, con la legge 833. Le persone un po' meno giovani, forse si ricorderanno, che prima del 1978 sì, avevamo dei livelli di garanzia dei diritti della salute, ma dipendevano molto della classe sociale a cui appartenevamo. A secondo se appartenevamo a un gruppo piuttosto che un altro, a una mutua, come si chiamavano, rispetto alle altre. Quindi l'833 è stato veramente un passaggio importante, un passaggio che ha dato, come dire, gambe alla Costituzione stessa. Sempre i bioetici ci ricordano un'altra cosa, ed è il motivo per cui lo metto all'inizio di questo intervento sulla salute, che poi proseguirà in altri momenti, anche di formazione chiaramente. Questo passaggio tra diritto e annunciato alla quotidianità del diritto è condizionato comunque da una serie di fattori, situazioni socio-economiche, scelte politiche programmatiche. Noi abbiamo aspettato il 1978 in un periodo storico particolare per fare quella scelta. Una capacità di organizzazione dei cittadini per dar voce ai propri diritti. Voi quindi pensate come dar voce a quei cittadini che non hanno voce. Ma quello che dice, dicono molti bioetici, che questo percorso non è in un senso solamente. Situazioni diverse possono provocare il passaggio, il ritornare indietro anche su determinati diritti che in qualche modo sono emersi. Quindi, l'avere coscienza di quello che è il nostro diritto e il diritto soprattutto delle persone più fragili secondo me è fondamentale anche per difendere costantemente questo diritto. Forse oggi l'attacco al diritto ha delle forme diciamo più subdole, pensiamo alle assicurazioni private, pensiamo agli altri pilastri del Servizio Sanitario Nazionale che pur sono previsti per legge. Quindi bisogna un po' stare attenti su questo. Ecco, 1971 istituzione del Servizio Sanitario e proprio nell'articolo primo del Servizio Sanitario si riprende quell'articolo della Costituzione che abbiamo visto prima e si dice quel mandato della Costituzione lo fa il Servizio Sanitario Nazionale. Poi ci sono state tutta una serie di modifiche adesso chiaramente non entriamo nel dettaglio ma una modifica fondamentale in questo percorso di aggiustamento dell'organizzazione per la tutela della salute avviene nel 2001 quando c'è una legge costituzionale che modifica il titolo quinto della Costituzione una serie di poteri che sono prima statali sono esclusivi dello Stato diventano concorrenti e vanno a livello delle regioni. Uno di queste è l'organizzazione del Servizio Sanitario regionale quindi dal 2001 si passa da un Servizio Sanitario nazionale che chiaramente rimane a un Servizio Sanitario regionale che invece deve in qualche modo garantire poi l'esigibilità dei diritti stessi dal 2001 nascono anche quelli che si chiamano ILEA livelli essenziali di assistenza ogni regione organizza l'assistenza nel modo che li tiene più opportuno ma comunque non può non garantire uno zoccolo duro di livelli di assistenza che appunto si chiamano livelli essenziali di assistenza può dare di più ma non può dare di meno ed ecco dopo questa premessa mi scuso per l'estrema rapidità ma insomma per avere un po' capire dove ci andiamo a collocare adesso entriamo nella prima scheda che trovate anche nel manuale chiaramente io in ogni diapositiva ho segnato in basso la scheda a cui fa riferimento per cui tutte le cose che dico le trovate anche sulla scheda anzi sulla scheda trovate cose più dettagliate ed analitiche e così nella scheda V1A trovate la definizione o meglio che cos'è la tessera sanitaria la tessera sanitaria è la chiave diciamo di ingresso nel servizio sanitario nazionale è quel documento personale individuale ognuno di noi c'è una che mi ha rilasciato a tutti i cittadini qui forse termini cittadino ma in termini devo considerarlo in senso molto lato perché a tutti coloro che hanno diritto alla servizio sanitario nazionale che sono molti di più rispetto ai cittadini italiani sono anche i cittadini stranieri sono anche i cittadini comunitari questa la conosciamo ormai tutti ce l'abbiamo ci arriva a casa l'abbiamo imparata a conoscere in questo periodo soprattutto se dovevamo prenotare i tamponi piuttosto che vaccini sui siti della regione o delle singole ASL abbiamo scoperto che ad esempio c'è un retro della tessera sanitaria che è un retro estremamente importante guardate cosa c'è scritto in alto tessera europea assicurazione malattia TEAM ne parleremo lo sfrutteremo questo è il tema della TEAM la TEAM è quella possibilità che noi abbiamo nel momento in cui andiamo all'estero dell'Unione Europea di avere garanzia di alcune prestazioni assistenziali in forma gratuita direttamente o indirettamente è quello che ci tutela rispetto all'emergenza nei paesi europei quindi questo è estremamente importante questo aspetto però poi abbiamo conosciuto anche che c'è accanto al codice fiscale nella nostra tessera c'è un altro numero che è il numero proprio di iscrizione al servizio sanitario nazionale è quello che è veramente la chiave d'ingresso nel servizio la tessera sanitaria chiaramente è strettamente collegata all'iscrizione al servizio sanitario nazionale che per noi cittadini italiani è un diritto dovere non possiamo non iscriverci o decidere di fare altro cioè non possiamo effettivamente andare da chi vogliamo per curarci però dobbiamo comunque essere tutti iscritti al servizio sanitario per iscriverci serve un codice fiscale serve l'iscrizione all'anagrafe per il cittadino non italiano la situazione è un po' più complicata perché non tutti i cittadini non italiani hanno il diritto dovere di iscrizione al servizio sanitario molti ce l'hanno ma è differenziato con dei requisiti diversi a secondo se uno è straniero abbiamo detto prima lo straniero è la persona non appartenente ai paesi dell'unione europea quindi gli ucraini sono europei ma non fanno parte dell'unione europea e quindi sono stranieri dal punto di vista giuridico gli albanesi ad esempio sono analoghi agli ucraini dal punto di vista proprio giuridico lo spagnolo il tedesco sono invece comunitari ecco e quindi l'altro grosso gruppo è quello dei cittadini comunitari quindi adesso passo dalla scheda V1A alla scheda V1B e V1C in realtà parto dalla C da quella più lontana perché sono gli stranieri la tessera sanitaria per i cittadini stranieri e ripeto giustifico questa partenza diciamo non cronologica rispetto a quella che abbiamo scritto sul manuale proprio per enfatizzare quello che può succedere che succede che deve succedere per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai cittadini ucraini queste sono le norme di riferimento chiaramente non c'è bisogno che ve le descrivo ma tanto quando avrete le diapositive potete ritrovarle segnalo solamente quella in verde in basso che è un accordo stato-regione del 2012 che riassume tutte le norme per l'assistenza sanitaria sia per gli stranieri sia per i cittadini comunitari bene la norma che è una norma del 1998 quindi non è diciamo vicinissima e tra l'altro è anche interessante perché abbiamo detto il servizio sanitario nazionale nasce nel 1978 e abbiamo detto che nasce come un servizio che sia che è di tipo equo ed inclusivo nessuno è escluso per il servizio sanitario nazionale però per quanto riguarda gli stranieri abbiamo dovuto costruire delle norme specifiche perché il servizio sanitario nazionale non prevedeva l'assistenza agli stranieri e perché non la prevedeva perché l'Italia in quel periodo non era terra di immigrazione tutt'al più era terra di emigrazione quindi nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale troviamo ad esempio la possibilità di assistere a cittadini italiani che risiedono all'estero e che vengono temporaneamente in Italia ma non troviamo l'assistenza strutturata per le persone straniere quindi c'è stato tutto un percorso che ha fatto emergere questo diritto vi ricordate quello che ho detto sul diritto che è costituzionale sì noi avevamo chiaramente l'input costituzionale che gli stranieri dovevano essere inclusi ma dovevamo farlo diventare poi legge esigita e questo è successo è successo nel 98 è diventato legge piena e l'idea di questa legge è che tutti la stragrande maggioranza degli immigrati regolarmente presente devono avere un'inclusione ordinaria nel sistema di tutela come tutti i cittadini e quindi è stata costruita questa norma lo stesso si è voluto intercettare il bisogno di chi è invece al margine del sistema tutto questo lo trovate nella scheda W1C quindi non entro troppo nel dettaglio comunque la stragrande maggioranza il 97% di quello degli stranieri che hanno un permesso di soggiorno hanno il diritto di iscrizione al servizio sanitario nazionale dipende chiaramente dal permesso di soggiorno questo è l'elenco dei permessi di soggiorno che chiaramente non ve li leggo li potete trovare e come vedete sono sostanzialmente tutti i permessi di soggiorno legati al lavoro tutti i permessi di soggiorno legati alla famiglia tutti i permessi di soggiorno legati alla protezione sociale queste persone che hanno questi tipi di permessi di soggiorno hanno il diritto dovere di iscrizione al servizio sanitario e all'atto dell'iscrizione comunque non si deve pagare c'è poi un'altra parte marginale che però potete trovare nei vostri centri in persone che vi chiedono che non possono iscriversi obbligatoriamente al servizio sanitario ma possono scegliere di farlo cioè non hanno il diritto dell'iscrizione obbligatoria ma possono iscriversi volontariamente tipicamente sono gli studenti tipicamente sono chi ha una residenza elettiva tipicamente sono persone che hanno motivi religiosi che non lavorano in Italia se uno lavora sia studente sia chi ha un motivo religioso automaticamente passa a livello di maggiore tutela cioè l'iscrizione obbligatoria invece queste hanno un'iscrizione volontaria che possono iscriversi però pagando una somma e qui è l'elenco di tutte le persone che effettivamente possono iscriversi dove ci si può iscrivere nella scheda V1H abbiamo messo l'elenco di tutte le strutture dove è possibile iscriversi sia per noi italiani sia per gli stranieri sia per i comunitari e qui trovate i siti delle tre ASL romane dove potete avere diciamo questa informazione è possibile entrare in Italia per cure mediche ma qui si apre tutto un capitolo enorme lo trovate anche questo scritto nella scheda V1C quindi non entro troppo nel merito invece l'altro punto che volevo sottolineare prima o poi di brevemente indicare quello che succede agli ucraini sono gli stranieri temporaneamente presenti sono persone che non hanno il permesso di soggiorno e che possono essere comunque assistiti non attraverso l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ma attraverso un codice il codice STP possono accedere a tutta una serie di prestazioni di servizi servizi dedicati e prestazioni come tutti gli altri cittadini gli STP chiaramente non possono essere turisti i turisti devono pagare tutto non sono assistibili in Italia non possono avere un permesso il giorno chi ha permesso il giorno l'abbiamo visto prima è scritto obbligatoriamente o volontariamente ci sono delle eccezioni come ad esempio i richiedenti asilo nella fase in cui stanno predisponendo i documenti possono essere assistiti come STP hanno diritto alle cure urgenti ma anche alle cure essenziali anche alla medicina preventiva quindi tutte le vaccinazioni ad esempio le vaccinazioni per covid sono state garantite anche agli STP loro devono andare in strutture che sono generalmente gli stessi uffici in genere per la scelta d'epoca del medico per avere questo codice STP ha validità semestrale vale su tutto il territorio nazionale ha anche un codice di esenzione specifico che è l'X01 su determinate prestazioni e tra l'altro l'STP anche se è irregolare non può essere segnalata dall'autorità di polizia a meno che non c'è l'obbligo di referto a parità di condizione col cittadino italiano dove sono gli ambulatori STP ecco questo è un progetto che abbiamo fatto anche noi Caritas nel tempo passato dove tra l'altro è aggiornata ad oggi dove sono appunto spiegati che sono gli ambulatori STP dove si trovano una mappa interattiva per cui uno clicca sopra a indirizzo e numero di telefono come vedete a livello del Lazio a livello di Roma tessera sanitaria per i cittadini comunitari come vi dicevo qui non vi dico nulla perché il tempo non c'è ed è troppo articolata però ci stanno le due schede che sono la V1B e la V1F una per i cittadini comunitari una per i cittadini comunitari in condizioni di fragilità sociale un po' simile agli STP però questi sono definiti ENI le trovate sono abbastanza dettagliate nel 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 manuale ultima cosa concludo emergenza ucraina questo è il sito della Caritas che è stato citato prima da da Giustino cosa si può fare subito nell'immediato devo dire l'UNH che c'era insieme a LARC sono stati diciamo quelli che hanno immediatamente dato le informazioni informazioni corrette perché ne sono girate diverse dicendo subito che comunque gli ucraini potevano entrare in Italia come in Europa nell'Unione Europea senza bisogno di visto questo già succedeva da qualche anno chiaramente non possono essere equiparati come succedeva fino a qualche tempo fa a dei tubisti quindi le persone che entrano anche senza visto in questo caso possono avere fin tanto che non abbiano un permesso di soggiorno che in questi giorni è stato deciso a livello europeo che verrà rilasciato ma fin tanto non hanno quel permesso di soggiorno possono accedere ai servizi sanitari alle vaccinazioni alla prevenzione attraverso l'STP ecco perché ho parlato di STP prima e queste sono circolari che sono uscite tra ieri e oggi tra ieri e oggi scusate dal commissario ministro della salute Regione Lazio e sostanzialmente dicono quelle cose che vi stavo dicendo possono entrare liberamente in Italia possibilità di essere assistiti subito con l'STP quando ci avranno un permesso di soggiorno saranno iscritti obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale per qualsiasi cosa anche voi nelle vostre centri d'ascolto potete fare riferimento alle asle territoriali c'è la Regione ha istituito un numero verde e ha cominciato a dare delle indicazioni su cosa fare e come fare questo è il numero verde della Regione c'è anche un sito con tutti gli indirizzi chiaramente anche noi come ambulatorio Caritas siamo disponibili già ci siamo attivati per essere permeabili a questo tipo di popolazione anzi stiamo cercando volontari che magari conoscono il russo e l'ucrano così possono ulteriormente aiutarci e concludo con una frase di Don Tonino Bello che in questo periodo un po' triste in qualche modo ci dà lo slancio per guardare oltre lui ci dice non permettere che sulle nostre lab il lamento prevalga mai sullo stupore che lo sconforto sovrassi la velocità che lo scetticismo non schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ti direi forse anche del presente in questo momento ci impedisca di far credito sul futuro ecco questo guardo che va oltre secondo me quella che ci dà la forza anche in questo momento così triste di operare grazie grazie salvatore grazie beviti un po' di acqua perché cominciamo con le domande per adesso ne ho una sola scritta che è Filippo Messineo che ti chiede che cosa bisogna esibire per avere un codice STP sì nella corsa non l'ho spiegato nella diapositiva ce l'ha scritto teoricamente serve un documento nel senso che la l'ASL può chiedere le generalità anzi le chiede le generalità in realtà però la legge dice che può essere anche erogato in forma anonima perché l'STP a differenza della tessera sanitaria che identifica la persona l'STP è un codice amministrativo serve a identificare le prestazioni sostanzialmente per creare delle filiere di rimborso alle persone che erogano le prestazioni però la Regione Lazio quando ha recepito questa norma parlo 1998-99 ha detto comunque noi chiediamo le generalità quindi se c'è un documento anche chiediamo il documento se no basta la generalità a voce tenete conto che per legge è vietato dare prima ancora della privacy norma di legge del 1998 che c'è il divieto di segnalazione all'autorità di polizia dell'immigrato che riceve delle prestazioni sanitarie e anche i dati delle ASL o le dati pensate anche dell'ambulatorio Caritas non possono essere dati anche alle autorità a meno che non c'è una richiesta del giudice motivata allora si prepari ad intervenire Maria Rosa alla quale tra poco darò la parola dovresti per favore Salvatore rispondere ad una domanda ripetuta più volte su quali sono le sul numero verde regionale Maria Teresa e Raffaele ti chiedono di ripetere il numero verde regionale allora aspettate che lo prendo è 800 118 800 lo trovate se andate sul sito della regione Lazio stranamente per tanti anni a livello istituzionale diciamo pubblico la presenza degli STP è stata quasi ignorata pensate l'STP è presente nell'ordinamento dal 1995 da ieri è comparsa invece in maniera molto molto evidente perché chiaramente è una soluzione organizzativa importante per quanto riguarda gli ucraini scusami Salvatore ma questo numero non sta su una scheda del manuale? no perché è stato messo ieri ah ok allora possiamo aggiornarla nelle prossime ore ok? ce lo annotiamo? assolutamente sì bene do la parola a Maria Rosa che ha chiesto di parlare devi attivare l'audio allora Salvatore grazie perché questa organizzazione oggi ci ha salvato perché all'ospedale San Giovanni sono arrivate già le prime donne in gravidanza e anche dei bambini quindi un ringraziamento Salvatore perché io sono giorni che ti tempesto ma tanto comunque tu lo sai che da me sarebbero passate comunque per cui ecco è molto importante insomma che l'organizzazione tempestiva anche diciamo della Caritas che si è attivata facendo bussando tutti i giorni alla regione finalmente oggi è arrivata la diciamo la procedura giusta che dobbiamo fare per dare l'assistenza a queste persone quindi ho voluto intervenire Salvatore perché non ho avuto modo di dirti grazie ma io sono tornata mezz'ora fa perché ho sistemato tutte le donne e tutti i bambini insomma per le esigenze delle cure grazie ma io lo sai la responsabile dell'ufficio stranieri del servizio stranieri dell'ospedale San Giovanni quindi un ospedale importante nel centro di Roma e che ci aiuta quotidianamente su tanti problemi e oggi siamo riusciti invece ad aiutarci reciprocamente a me tocca il compito duro invece di farvi correre quindi abbiate pazienza se Vera ti chiede gli stranieri che aderiscono alla procedura STP devono anche fare una richiesta di un medico della ASL no no l'STP perlomeno nella regione Lazio è appunto un codice che identifica le prestazioni che possono essere erogate da una serie di ambulatori che si chiamano ambulatori STP che sono in giro per tutto il Lazio sono una cinquantina tutti gli indirizzi li trovate in quella mappa che vi ho fatto vedere di fatto quando vanno nell'ambulatori STP trovano un medico che ha l'analoga attività del medico di medicina generale però non è il medico di medicina generale quello è un obiettivo su cui vorremmo arrivare ma ancora lo vedo abbastanza lontano al momento sono dei medici di servizio che stanno in questi ambulatori l'ambulatorio della Caritas è un ambulatorio STP e quindi noi garantiamo per gli STP non solo per loro perché noi facciamo cose oltre gli STP nelle prestazioni di primo livello a queste persone Raffaele ci comunica che il comune di Roma ha messo a disposizione un numero verde che è 893 88 73 la domanda che non ha fatto Raffaele ma che ti pongo io è c'è una relazione sono antitetici come sono utilizzabili separatamente o meno non lo so non so io il numero verde della regione Lazio è messo nella pagina sugli STP edeni quindi immagino che serva per dire quello che bisogna fare gli indirizzi dove andare eccetera perché subito al di sotto ci sono tutti gli indirizzi degli uffici dove fare gli STP edeni questo del comune di Roma non lo so tenendo conto il comune di Roma non ha una competenza specifica nell'organizzazione sanitaria quindi immagino sarà più sul tema dell'accoglienza ok allora prima di dare la parola si preparino Alberto ed Isabella un'altra domanda scritta per la tessera sanitaria comunitaria è strettamente necessaria la residenza? te lo chiede Elena Paris allora qui si apre un capitolo molto vasto allora per noi italiani se siamo abbiamo la tessera sanitaria in automatico diciamo abbiamo anche la tessera europea assicurazione malattia se non la vediamo è la stessa tessera avanti e dietro quindi ce l'abbiamo in automatico sugli stranieri la cosa è un po' diversa non tutti la tipologia di permessi di soggiorno danno diritto alla teama e quindi questo e non e non sempre i permessi di soggiorno per avere la la tessera sanitaria necessitano della residenza però è un po' articolata la questione quindi non 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 la tratto adesso ma sul manuale trovate quali sono quelle tessere che danno diritto alla teama e quelle tessere dove c'è bisogno per forza della residenza allora do la parola a Isabella devi attivare l'audio scusa Salvatore per le prestazioni specialistiche come funziona non mi ricordo più perché per esempio all'ambulatorio Caritas vengono erogate delle prestazioni specialistiche anche agli STP ma anche negli altri ambulatori dunque la stragrande maggioranza degli ambulatori delle ASL fanno solamente la medicina di base però eh sono attivi percorsi esistenziali per cui eh possono con ricetta mandare a fare la visita specialistica dallo specialista in una qualsiasi struttura dell'ASL che eroga le prestazioni specialistiche noi le facciamo insieme perché noi abbiamo in qualche modo cercato di anticipare quello che poi sarà la casa della comunità fra qualche tempo cioè nel momento in cui intercettiamo il bisogno di una persona fragile cerchiamo di risolvere tutto insieme tu lo sai bene cioè facciamo visita di base visita specialistica diagnostica e diamo pure le medicine proprio perché sappiamo che poi riintercettarlo diventa difficile nel servizio pubblico tutto questo non avviene cioè può avvenire il diritto c'è però avviene in step diversi mentre si devono preparare Alberto e Domenico ai quali darò la parola fra poco Henry ti chiede le persone con permesso di soggiorno per cure mediche possono lavorare? Dunque questo è un dibattito aperto fino a poco tempo fa no pare che invece dopo la riforma dopo la legge della Morgese nel 2020 si è aperta un'interpretazione che possono lavorare il problema è che il permesso per cure mediche che noi non abbiamo affrontato sono quattro permessi diversi noi chiamiamo permesso per cure mediche quattro situazioni completamente diverse e quindi va in qualche modo contestualizzato volta per volta però diciamo gli avvocati stanno insistendo che effettivamente ripeto con la riforma con l'ultima legge della Morgese anche chi ha un permesso per cure mediche ai sensi dell'articolo 36 cioè chi viene dall'estero per curarsi possa lavorare tutto questo è un po' discutibile perché chi viene dall'estero per curarsi significa delle patologie particolarmente invalidanti quindi insomma è una una situazione in evoluzione l'associazione studi giuridici sull'immigrazione ha fatto proprio un piccolo manualetto sono 38 pagine dove spiega tutte le possibilità con i permessi per cure mediche bene Alberto ti ho attivato l'audio ok ti senti? sì allora volevo chiedere tornare un attimo sull'emergenza ucraina degli ucraini che arrivano in Italia per capire se c'è qualche già indicazione più precisa su questo aspetto particolare noi abbiamo già qualche famiglia che ci che si rende disponibile a accogliere nelle loro case queste persone ma noi nel dare questo assenso nel cercare di avviare eventualmente questi contatti ci poniamo un problema di natura sanitaria di capire se queste perché abbiamo sentito e letto un po' di cose che ci fanno capire che insomma c'è un problema di vaccinazione covid per esempio perché soltanto il 35% dei cani sono vaccinati c'è un problema che sarebbero arrivati alcuni già con la malattia in corso e quindi c'è un problema anche di come di fare uno screening preliminare per capire come orientare le persone ecco ci sono già delle linee guida delle indicazioni per capire come attivare questo percorso atteso anche che la Caritas sta facendo un lavoro di come dire di monitoraggio delle disponibilità che esistono in questo senso sul territorio romano insomma quindi sta chiedendo a tutte le parrocchie a tutte le prefetture di dare delle indicazioni in questo senso guarda noi stiamo attendendo che la regione ci dia delle indicazioni è uscita una circolare del ministero della salute che dà alcune indicazioni noi in Italia tra l'altro abbiamo delle linee guida sull'accoglienza dei profughi tra l'altro con un accordo stato-regione quindi insomma è applicabile ogni singola regione dove ci dicono quello che bisogna fare nelle varie fasi dell'accoglienza io ritengo che una parte delle linee guida debbano essere applicate anche per quanto riguarda i profughi che vengono dall'UCAI tra l'altro quelle linee guida prevedono anche un monitoraggio ad esempio per alcune patologie non necessariamente infettive ma patologie croniche che secondo me tenendo conto il tipo di popolazione che arriverà forse donne e bambine all'inizio ma poi persone anche anziane sarà quella o diciamo non troppo giovani sarà quello da andare a monitorare la regione ancora non ha detto niente comunque voi sicuramente se arrivano delle persone sarebbe il caso comunque di inviarle per una visita preliminare o insomma all'ambulatorio STP più vicino se prevale per il momento il fatto dell'STP nel momento in cui gli daranno a queste persone uno status e dovrebbe succedere a breve queste persone potranno essere iscritte al servizio sanitario nazionale e quindi potranno avere un medico di medicina generale quindi lì il riferimento non diventa più l'ambulatorio della ASA ma diventa il medico di medicina generale che non so per alcuni versi se è meglio o peggio però sicuramente è un riferimento certo Domenico a cui sto attivando l'audio forse voleva capire bene la differenza fra codice STP e codice ENI Domenico puoi attivare il tuo audio se vuoi intervenire di persona devi attivare il tuo audio un attimo prego sì esatto confermo la domanda ma sono domande che devo stare una serata a parlarvi della differenza prova a sorprendere Allora ENI sta per europeo non iscritto è un codice non nazionale mentre l'STP è un codice nazionale l'ENI è un codice regionale solamente alcune regioni ce l'hanno e noi ce l'abbiamo e per quelle persone che si trovano in Italia senza residenza che non lavorano quindi che non hanno un contratto di lavoro che non sono venute per curarsi da altri paesi dell'Unione Europea che sono in condizioni di indigenza l'esempio tipico può essere il rom rumeno allora a queste persone viene dato il codice ENI che ha come tipo di prestazioni possibili le stesse dell'STP questo nella regione Lazio perché in altre parti non c'è la differenza sostanziale è che il codice deve passare con l'identificazione della persona perché l'ASD deve verificare che quella persona non abbia la TEM perché nell'Unione Europea tutti i paesi dell'Unione Europea devono dare ai propri cittadini ai propri concittadini la TEM se vanno solamente per alcune prestazioni della TEM se invece non ha la TEM è povero è fragile tutte quelle cose che vi ho detto ha diritto al codice ENI che dà diritto sostanzialmente alle stesse prestazioni con una differenza sostanziale però che è quella che per le specialistiche devono pagare il ticket cosa che invece l'STP non deve fare allora Raffaele sì Raffaele Salvatore per dare aiuto si può inserire la persona ucraina nel SIS Caritas? penso di sì no io non lo so perché noi possiamo chiedere a Giuliana se può rispondere a questa domanda prima l'ho vista Giuliana D'Alessio sarà impegnata sì ma comunque penso di sì non è però ho pensato di sì ma è la classica domanda Francesco Vigilio che puoi fare scrivendo a centrostudi chiocciola caritas roma punto it centrostudi chiocciola caritas roma punto it eh Lilia Lungo mette a disposizione di tutti l'informazione che forse alcuni di voi già conoscono che a Roma esiste l'Istituto Nazionale di Medicina Popolare INMP al quale possono accedere tutti gli stranieri Istituto Nazionale di Medicina Popolare no non popolare non popolare ok Medicina della povertà sarebbe è un nome lunghissimo che è la diciamo il ristretto Medicina della povertà bene Migrazione e povertà l'Istituto Nazionale di Medicina Popolare quindi promossa Lilia una persona chiede Isabella Falletti Salvatore una persona in attesa di permesso di soggiorno può avere l'STP? Anche questa domanda articolata dunque teoricamente la persona in attesa di permesso di soggiorno ha diritto all'iscrizione al servizio sanitario teoricamente praticamente non avviene perché gli viene chiesto il codice fiscale e l'agenzia dell'entrata perlomeno qui nel Lazio a Roma in particolare se non hai il codice se non hai il permesso di soggiorno non ti rilasciano al codice fiscale ti dice tu devi avere il diritto pieno iscrizione poi però non puoi averlo per un problema amministrativo c'è stata però una seconda legge che è uscita nello Stato nel 2015 dove si dice in particolare per i richiedenti asilo quindi chi ha un permesso di soggiorno per richiesta di asilo nella fase della richiesta d'asilo cioè che ancora non ha permesso di soggiorno in quel caso è esplicitato che è possibile avere il codice STP Bene grazie Salvatore Adele Biondi ti fa una domanda e pone un'affermazione la domanda che fa è quando c'è un minore in cura l'assistenza sanitaria può essere erogata ad entrambi i genitori o vale solo per un solo genitore accompagnatore lei aggiunge sappiamo che il permesso di soggiorno può essere dato dopo tre mesi di assistenza sanitaria allora se il permesso di soggiorno per accompagnamento minore se hanno questo tipo di permesso di soggiorno se ce l'hanno tutte e due e possono avere tutte e due l'assistenza tenendo presente che però anche lì è diciamo limitata se poi si entra nel percorso lavorativo cioè se lavorano loro sicuramente possono avere questa assistenza se no l'hanno abbastanza limitata cioè non hanno l'iscrizione al servizio sanitario Matteo Brufatto peraltro conferma quello che avevamo già detto possono senz'altro essere inseriti nel SIS Caritas se Matteo vuoi dare una precisazione a voce sei gradito dove sei non ci sei più Giuliana è comparsa Giuliana hai sentito la domanda di prima no non ti preoccupare va bene abbiamo già risposto allora siccome siamo molto lunghi con i tempi io non ho altre domande una domanda di Filippo Messineo la girerò all'ufficio proposto sì Matteo ma non ti vedo però ecco ti visto scusatemi parola a Matteo Brufatto prego attiva di l'audio vai buonasera a tutti buonasera un brevissimo intervento sicuramente le parrocchie possono inserire le persone che si rivolgono a loro nella piattaforma SIS non ci sono limitazioni che è come nella normalità non ci sono particolarità in quanto sono persone provenienti dall'Ucraina se le parrocchie ritengono di inserire una persona nel SIS perché è utile nella logica della rete e dell'accompagnamento progettuale possono senz'altro farlo grazie Matteo chiedo a Filippo Messineo di rivolgere la sua domanda per mail domani riceve la risposta a centrostudi chiocciola caritasroma punto it allora non ho altre domande ah no Giuliana ha chiesto di parlare prego Giuliana attiva l'audio sì eccomi scusatemi l'unica precisazione che volevo fare è che naturalmente se le famiglie poi richiedono l'emporio e quindi l'inserimento del codice fiscale per quel motivo può risultare una limitazione quindi l'unica diciamo così handicap rispetto all'inserimento del SIS riguarda in questa fase la mancata attribuzione di un codice fiscale però se poi questa cosa verrà comunque risolta dalla parte documentale ci sarà la possibilità di avere il pieno utilizzo anche rispetto all'attivazione di eventuali tesserempori scusatemi volevo solo aggiungere questo buona serata grazie allora Beatrice nel tuo momento nuova area accesso alla giustizia a te la parola microfono Beatrice buonasera a tutti allora va bene così perfetto ok allora l'area che andremo a trattare adesso è quella l'accesso alla giustizia i temi trattati saranno di servito questo il patrocinio a spese dello Stato l'amministratore di sostegno gli obbligo assistenza genitori negoziazione mediazione saldo e straccio saisha saisa e sismi i numeri a fianco sono i numeri corrispondenti alle schede che trovate sul manuale dei diritti e dove troverete tutti questi argomenti esplicitati in modo molto dettagliate con anche delle schede da poter utilizzare che cos'è il gratuito patrocinio a spese dello Stato chiunque di voi ha chiamato il NARC sicuramente lo saprà già è un istituto che consente ai meno ambienti di agire difendersi da fronte all'autorità giudiziaria in quale procedimenti è assicurato sia in quello civile sia in quello penale sia in quello amministrativo sia in quello contabile che tributario ne hanno diritto tutti i cittadini italiani sia stranieri sia gli apolidi purché regolarmente soggiornanti sul nostro territorio nonché gli enti senza scopo di lucro e le associazioni ne sono esclusi alcuni soggetti che hanno ricevuto una condanna definitiva sono prettamente disciplinati e definiti dal legislatore pertanto li trovate sul manuale dei diritti qual è il requisito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è soltanto uno è quello reddituale il reddito non deve essere superiore agli undicimila settecento quarantasei euro quando si parla di reddito però bisogna prestare un attimino di attenzione perché non si parla semplicemente del reddito del richiedente all'ammissione al gratuito patrocinio ma si parla di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare ovvero di tutti quelli che stanno sullo Stato di famiglia ora la soglia di undicimila settecento quarantasei euro è una soglia netta per quanto riguarda i procedimenti civili per quanto riguarda invece i procedimenti penali a questa soglia va aggiunto vanno aggiunti mille euro per ogni componente della famiglia in alcuni procedimenti poi il legislatore non tiene conto del reddito dei componenti della famiglia ma soltanto del reddito del componente di chi richiede l'ammissione possono essere i reati di violenza domestica oppure di oppure di di maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale mentre per altri tipi di reati per no chiedo scusa ci sono alcuni procedimenti per cui non si tiene conto del reddito degli altri componenti della famiglia che sono dei procedimenti come la separazione tra i coniugi mentre per altri tipi di procedimenti come quella non è previsto il limite di reddito e in questo caso si parla di violenza domestica oppure di violenza sessuale il procedimento per quanto riguarda il procedimento civile la domanda deve essere presentata presso il consiglio dell'ordine dagli avvocati territorialmente competente si parla di ammissione al gratuito patrocinio soltanto per il procedimento giudiziario tutto ciò che sta fuori il giudizio quindi che sta fuori dal tribunale o poi o meglio si parla di fase stragiudiziale non è coperta dal gratuito beneficio al gratuito patrocinio ad eccezione di due istituti stragiudiziali che è la mediazione e la denocraziazione che andremo a trattare più avanti la mediazione e la denocraziazione le parti praticamente assistite dai propri difensori si confrontano per trovare una soluzione amichevole alla controversia in caso di mediazione obbligatoria all'avvocato non è dovuto nessun compenso tutte le volte in cui la mediazione obbligatoria si è conclusa con esito positivo per quanto riguarda invece l'istituto della negoziazione all'avvocato non è dovuto nessun compenso da parte di chi si trova nella condizione per l'ammissione al gratuito patrocinio ovvero se tenendo conto del limite di reddito per quanto riguarda il procedimento penale chi è che può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio sia l'imputato sia la persona offesa da reato sia il danneggiato sia il responsabile civile anche in questo caso vi sono alcune categorie che sono esclusi dalla richiedere la possibilità di essere ammessi al gratuito patrocinio e possono essere sia l'indagato sia l'imputato o il condannato dei reati commessi in violazione delle norme per la pressione e l'elevazione fiscale oppure sulle imposte sui redditi o nel caso in cui sia più di un difensore la domanda in questo caso per il procedimento penale va presentata presso la cancelleria del magistrato del procedimento ora il gratuito patrocinio come si richiede? attraverso un'istanza che può essere che è disponibile o cartacciamente presso il consiglio dell'ordine oppure si può anche scaricare online chi è che la presenta? l'istanza la presenta o la parte che fa la richiesta o tramite come si invia questa richiesta al consiglio dell'ordine o personalmente si porta manualmente o tramite raccomandata o telematicamente presentata in questo caso dall'avvocato che ne è autentica della sottiscrizione non dimentichiamoci che la richiesta di ammissione di ammissione di ammissione di ammissione di ammissione estra va depositato in duplice copia uno al consiglio dell'ordine e l'altro all'agenzia delle entrate anche perché non dobbiamo dimenticarci che è sottoposta poi a controllo della parte dell'agenzia delle entrate il richiedente straniero quindi extracomunitario deve allegare una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la vericità di quanto dichiarato nell'istanza per quanto riguarda i redditi all'estero ora una volta presentata la domanda qual è la procedura può essere accolta e in questo caso la parte che viene ammessa al gratuito patrocino non deve pagare l'onorario all'avvocato non deve pagare il contributo unificato non deve pagare una serie di spese può essere rigettata e in questo caso è possibile ripresentare la domanda successivamente al giudice competente del giudizio ma essendo una autodichiarazione sul reddito nel momento in cui la parte la beneficiaio ma ha delle modifiche all'obbligo di comunicarlo e pertanto può successivamente anche rinunciare all'ammissione al gratuito patrocino oppure nel caso in cui ci siano delle modifiche sempre di reddito oppure l'interessato ha agito in giudizio o resistito in giudizio per malafede o colpa grave lo stesso giudice può revocarglielo con decreto se il soggetto ammesso al gratuito patrocino vince la causa il pagamento delle spese legali è a carico della parte soccompente cioè la parte di chi ha perso però se la parte soccompente non paga lo Stato può sercitare un diritto di ribarsa al soggetto ammesso a gratuito patrocino quando se per sentenza o transazione la parte ammessa abbia conseguito almeno il sesto valore delle spese o nel caso di denuncia all'azione o di estinzione del giudizio il prossimo argomento invece che andremo a trattare è quello dell'amministratore di sostegno l'amministratore di sostegno è una è una persona individuata per tutelare chi risulta limitato della propria capacità di agire per infermità fisica o psichica e si trova nella impossibilità parziale o temporanea di proporre i propri interessi la domanda come viene fatta la domanda viene fatta con la richiesta è fatta con un ricorso che deve essere depositata presso la cancelleria del giudice tutelare territorialmente competente ovvero dove ha la residenza la persona il beneficiaio chi può fare la richiesta per la della nomina dell'amministratore di sostegno la parte personalmente tutte le volte in cui sa che può incorrere in una infermità fisica o psichica o in una possibilità parziale o temporanea quindi in temporanea i familiari fino al quattro grado gli affini fino al secondo ma anche il pubblico ministero il tutore il curatore e gli assistenti sociali tutte le volte in cui vengono a conoscenza di fatti tali da rendere necessarie la nomina una volta presentato il ricorso il giudice fissa un'udienza e una volta fissata l'udienza nomina con decreto l'amministratore di sostegno nello stesso decreto l'amministratore definisce in modo chiaro e netto quelli che sono i compiti e i poteri dell'amministratore di sostegno ciò non toglie però che nonostante siano definiti all'interno del decreto quelli che siano i compiti dell'amministratore di sostegno ci sono alcuni atti in cui l'amministratore di sostegno deve chiedere in ogni caso l'autorizzazione al tribunale al giudice tutelare per poter per poter compiare come possono essere l'acquisto di beni oppure contratti di locazione di durata superiore a nove anni oppure riscuotere capitali è un istituto prettamente gratuito o meglio nasce gratuito successivamente però il giudice tutelare può diciamo in vista l'entità considerato anche l'entità del patrimonio del beneficiario può liquidare un'equa indennità a fine del a fine al fine anno quando c'è l'obbligo della rendicoltazione ora il prossimo argomento che spesso viene richiesto anche come all'officionale che è quello dell'obbligo di assistenza ai genitori tutti noi sappiamo che i genitori hanno l'obbligo di mantenere studiare ed educare i figli e il mantenimento e fino a quando devono mantenere i genitori i figli fino a quando questi non sono diventano indipendenti o non li mettono nelle condizioni di essere indipendenti l'obbligo di assistenza dei figli nei confronti dei genitori scatta tutte le volte in cui questi risultano praticamente non risultano più in grado di provvedere al proprio mantenimento i presupposti affinché sorghi al diritto agli alimenti quali sono? Lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentato l'incapacità di provvedere in tutto e in parte al proprio sostentamento economico la capacità dell'obbligato e il vincolo di relazione che è individuato strettamente dalla legge i soggetti obbligati appunto a prestare gli alimenti sono stabiliti dalla legge in modo anche abbastanza gerarchico e i figli sono obbligati a mantenere a prestare gli alimenti ai genitori in base al proprio bisogno e le proprie in base ai genitori in stato di bisogno in proporzione alle loro sostanze questo cosa vuol dire che il figlio o si porta a casa il genitore oppure lo mantiene economicamente essendo un vincolo diciamo alimentare è un obbligo può portare può essere modificato nel tempo può subire delle modifiche quindi nel tempo può anche estinguersi perché vengono meno presupposti ma c'è da sottolineare il fatto che essendo un obbligo alimentare la violazione comporta un reato che viene anche punito abbastanza severamente il prossimo istituto che andremo invece a descrivere è quello della negoziazione che è un istituto stragiudiziale cioè tutto ciò che avviene prima di andare in indizio la negoziazione assistita consiste nell'accordo attraverso le quali le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con realtà per risolvere una controversia tramite l'assistenza di uno o più avvocati ora il presupposto per poter utilizzare questo istituto è principalmente la presenza dobbiamo essere per tutte le volte in cui siamo in presenza di un diritto disponibile sono diritti disponibili tutti quelli che hanno contenuto patrimoniale economicamente valutabile come potrebbe essere il diritto di proprietà su beni mobili oppure immobili qual è il procedimento per attivare la negoziazione il procedimento è che la parte che sceglie di procedere con la negoziazione assistita invia all'altra parte un invito a stipulare la convenzione di negoziazione dopodiché alla fine di questa diciamo incontrattativa si può arrivare o a un esito positivo e quindi gli avvocati procedano alla stesura di un accordo dotato di efficacia esecutiva oppure in caso oppure se non si arriva diciamo un accordo gli avvocati procederanno alla stesura della certificazione del mancato accordo allora il da tenere presente che il nostro ordinamento prevede in alcuni casi l'obbligo di esperire il tentativo di negoziazione pena l'improcedibilità della domanda della domanda cioè non si può andare davanti a un giudice se prima non si è esperito questo tentativo di negoziazione e quali sono le controversie la prima è quella per quanto riguarda l'isarcimento da danni da circolazione di veicoli in datanti tutte le controverse per pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiore ai cinquantamila euro terzo per quanto riguarda le controverse in materia di trasporto esiste così come è prevista una negoziazione obbligatoria come abbiamo detto che c'è l'obbligo dell'improcedibilità davanti al giudice se non viene spedita esiste anche una negoziazione non obbligatoria ma quella su cui noi andremo un pochino a soffermarci in realtà è la negoziazione assistita cosiddetta familiare la negoziazione assistita familiare può essere attivata per ottenere un provvedimento di separazione personale scioglimento cessazione effetti civili del matrimonio modifica delle condizioni di separazione o di divorzio il legislatore in questo caso ha disciplinato in modo dettagliato il procedimento in sia in assenza di figli sia in presenza di figli allora per quanto riguarda l'assenza di figli l'accordo viene trasmesso al procuratore della repubblica presso il tribunale competente che verifica diciamo l'accordo dopodiché dà il nulla osta agli avvocati per gli adempimenti dello stato civile in presenza di figli l'accordo è sempre trasmesso entro dieci giorni al procuratore della repubblica presso il tribunale competente il quale o lo autorizza oppure lo nega e l'accordo è trasmesso oppure nega l'accordo viene trasmesso al presidente del tribunale l'unico adempimento che viene chiesto dieci giorni in cui c'è l'autorizzazione dell'accordo di trasmetterlo presso l'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu riscritto o trascritto per le apposite diciamo annotazioni per quanto riguarda i costi della negoziazione la legge disciplina soltanto il caso della parte che può essere ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato e stabilisce che cosa che quando il procedimento di negoziazione assistita e condizioni di procedibilità e abbiamo visto quali sono i casi della domanda giudiziale all'avvocato non è dovuto alcun compenso dalla parte che si trova nella condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato ovvero quindi quando la negoziazione è obbligatoria e la parte alle condizioni previste per essere ammesse al patrocinio a spese dello stato non deve pagare l'avvocato bisogna prestare attenzione perché per quanto riguarda la negoziazione facoltativa anche la negoziazione familiare in quel caso le parti devono mettersi d'accordo con gli avvocati per stabilire quello che era il compenso dell'avvocato un altro istituto stragiudiziale che andremo a vedere è quello sulla mediazione la mediazione è un'attività svolta da un terzo per assistere due o più soggetti alla ricerca di un accordo amichevole sia per la composizione di una controversia sia per la formulazione di una proposta per la soluzione della stessa quindi abbiamo comunque sempre due parti che in questo caso oltre all'ausilio degli avvocati hanno un organismo terzo appunto l'organismo di mediazione che gli aiuta alla risoluzione della controversia ora per quanto riguarda il procedimento può svolgersi solo ed esclusivamente innanzi agli organismi di mediazione abilitati esiste un apposito elenco presso il registro del ministro della giustizia dove poterli trovare ma anche gli organi professionali e anche altre associazioni private fanno questo tipo di servizio per quanto riguarda la competenza l'istanza di mediazione deve essere depositata presso l'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per quanto riguarda la competenza invece giudiziaria l'esito della mediazione come può essere può essere positivo in questo caso viene redatto l'accordo di mediazione e l'accordo a efficacia di titolo esecutivo per quanto riguarda l'esecuzione forzata l'esecuzione di obblighi di fare di non fare l'iscrizione di ipoteca giudiziaria può essere un esito negativo in questo caso viene redatto un verbale comunque di mancato accordo c'è da dire che per quanto riguarda il procedimento di mediazione sono previste numerose il legislatore per incentivarle ha previsto una serie di agevolazioni fiscali infatti tutti quasi tutti i documenti sono esenti in posta di bollo che da qualsiasi spesa tassa o diritto c'è da dire che la parte ammessa al gratuito patrocinio non deve pagare alcunché all'organismo di mediazione il valore cioè le spese per quanto riguarda la mediazione variano a seconda di quanto è il valore della causa comunque partono da un minimo di quaranta per un massimo di sessanta euro sessanta euro sessanta euro abbiamo diversi tipi di mediazione e la mediazione obbligatoria che è un'obbligazione ehm è un'attività che va esperita appena l'improcedibilità del procedimento nel senso che non si può andare davanti a un giudice se non si esperisce il tentativo di mediazione e le materie sono quelle del condominio diritti reali sono ritrovate ehm nel manuale dei diritti tutte quante elencate poi c'è una mediazione concordata ossia quando le parti nel fare inseriscono all'interno di un contratto di uno statuto di un patto ehm l'obbligo di espedire il tentativo di mediazione prima di andare in tribunale la mediazione demandata che invece è il giudice titolare del procedimento che dice alle parti guardate dovete espedire il tentativo di mediazione e lo pone come condizione di procedibilità del procedimento e quindi stabilendo anche le modalità i luoghi spesso il anche il mediatore e poi c'è una mediazione volontaria questo tipo di mediazione che può essere applicata soltanto in presenza di diritti disponibili come può essere il diritto di proprietà su beni mobili o immobili come possono essere i contratti di lavoro di beni e servizio tra imprese e consumatori oppure i contratti di natura commerciale in questo tipo di mediazione non è obbligatoria la presenza dell'avvocato le parti possono spedire direttamente all'organismo di mediazione la scheda invece R7 quella sul saldo e straccio quando noi parliamo di saldo e straccio ci facciamo subito riferimento alle cartelle sottoriali in realtà è un istituto stragiudiziale e cosa consiste è un accordo transattivo proprio tra il debitore e il creditore il primo il debitore quindi si impegna a corrispondere a una somma di importo inferiore rispetto a quella originaria e il creditore accetta è un accordo tra le parti a questo al fine semplicemente il creditore per rientrare in possesso prima del proprio credito i prossimi istituti che andremo a vedere sono il SAIS SAISA e SISMID sono servizi forniti dal comune ma erogati dai municipi territorialmente competenti ora per quanto riguarda il SAIS è un servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona al disabile è un servizio socio assistenziale rivolto alla persona al disabile attuato dal servizio sociale del municipio e dal servizio socio sanitario dell'ASD che operano un piano di intervento individuale come abbiamo detto è un servizio fornito dal comune ma erogato dal municipio territorialmente competente attraverso degli enti accreditati bisogna presentare una domanda a chi è che a chi è che viene erogato questo servizio e in quale modalità sulla base di una valutazione del bisogno socio assistenziale della persona esiste una graduatoria e attraverso viene attivato ehm soltanto se le risorse però del bilancio del municipio lo ehm lo prevedono purtroppo non i fondi non sono sempre tanti il TASA invece è un servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona anziana quindi anche questo viene fornito dal comune ed erogato dal municipio territorialmente competente sulla base della valutazione del bisogno socio assistenziale chi è che può accedere a questo tipo di servizio donne che hanno superato i 60 anni di età e gli uomini che ne hanno superato i 65 residenti nel municipio parzialmente autosufficienti o del tutto non autosufficienti bisogna presentare una domanda sul manuale dei diritti troverete le modalità anche in questo caso ci saranno delle graduatorie e a cui successivamente si verrà chiamati e infine il SISMUF che è un servizio per l'integrazione e il sostegno ai minori in famiglia è un servizio appunto per interventi domiciliari rivolti a nuclei familiari con minori in difficoltà socioambientali per consentire la permanenza del minore nel suo ambiente di origine migliorando le condizioni di vita all'interno del nucleo familiare le modalità di intervento sono duplice o a sostegno dei genitori o a sostegno proprio del minore il servizio è erogato abbiamo detto sempre dalla comune attraverso il municipio competente purtroppo non tutti i municipi di Roma fanno questo tipo di servizio spesso e volentieri viene attivato dal servizio sociale in alcuni casi viene attivato anche a richiesta delle parti anche in questo caso bisogna presentare una domanda io ho finito grazie grazie Beatrice New Entry insieme a Salvatore dentro il manuale dei diritti allora Beatrice bevi di un goccio d'acqua perché abbiamo già delle domande per te a una abbiamo risposto in diretta Raffaele ci chiedeva se il reddito è diverso dall'ISE e abbiamo detto di sì perché come abbiamo detto nella sessione di lunedì l'ISE è la raccolta del patrimonio del nucleo familiare sì allora allora dicevo la domanda per te di Cristina intanto si prepari Claudio a cui darò parola e poi darò parola a Isabella la domanda di Cristina è anche genitori e fratelli sono obbligati ad assistere la persona con una evidente fragilità economica e psicologica sì la domanda risposta è sì la legge prevede appunto che il genitor esiste proprio un obbligo da parte diciamo delle persone dei congiunti all'obbligo assistenziale grazie Claudio attivato l'audio volevo sapere tutti questi benefici economici soprattutto gli ultimi sismi sembrano i servizi segreti interni i sismi esatto sono sommabili ad altri introiti per la famiglia che è in condizioni di cioè ci sono dei limiti di reddito se c'è il reddito di cittadinanza quello non si può ottenere come funziona perché c'è un grande almeno dal punto di vista mio servirebbe un quadro sinottico a frecce incrociate se è così allora cos'ha altrimenti è un elenco di voci per quanto riguarda il Saisha e il Saisha vengono presentate delle domande no non è previsto il limite di reddito Luigi chiedo conferma lo confermo ma confermo anche che nelle schede è precisato molto bene quindi non ci si perde Beatrice ha solo il dovere di illustrarle ma dovete poi andare sempre a consultare le schede e lì avrete dettagli prego Beatrice no non è previsto il limite di reddito l'esame della pratica viene fatto in base alla problematica di salute e quindi la gradatoria viene fatta principalmente in base all'esigenza dell'assistito bene mentre si prepara Isabella a cui do la parola però fra poco Beatrice è arrivata alla domanda alla quale ci siamo preparati da giorni Antonio dice non capisco la differenza fra negoziazione assistita e mediazione ci sono dei casi in cui si può dire all'una o all'altra indifferentemente allora la differenza tra negoziazione e mediazione è che nella mediazione abbiamo un organismo terzo che è il mediatore cioè l'organismo di mediazione che è un soggetto terzo che ha l'obbligo cioè che è nella sua funzione di aiutare le parti a trovare una soluzione oppure a proporre una soluzione nella negoziazione invece sono le parti assistite dai propri difensori che trovano una soluzione al problema ma fondamentalmente la distinzione tra negoziazione e mediazione è questa bene Isabella ti ho attivato l'audio devi attivarlo tu e poi parlare scusa volevo capire meglio che tipo di assistente di servizio può essere erogato per i bambini per quanto di il sì nello specifico non te lo saprei dire devo essere sincera però questa è la classica domanda grazie Isabella di averla fatta intanto che cortesemente Beatrice annoterà e risponderemo direttamente senza bisogno che tu ce la richieda Isabella attraverso la la email di centro studi chiocciolacaritasono.it ti prego Beatrice di registrare questa domanda la prima di dare la parola a Giuliana che ha chiesto la parola e Patrizia ti chiede Beatrice se noi possediamo già un elenco dei municipi che attuano il Sismif no dovete chiedere volta per volta perché l'anno scorso erano semplicemente tre quest'anno sinceramente non dovete andare a chiedere allora mi pare di capire che bisogna verificare di municipio in municipio Giuliana puoi attivare l'audio allora volevo integrare la risposta in realtà rispetto a queste tre forme di servizio che ha definito Beatrice in realtà sono in gestione dei servizi sociali dei municipi quindi questo tipo di richiesta rispetto alla tipologia di assistenza che può essere fatta come viene gestita eccetera va fatta comunque attraverso gli assistenti sociali che prendono in carico nello specifico le situazioni generalmente il SISMIF nello specifico per i bambini si sostanzia in una sorta di assistenza domiciliare che viene fornita ai bambini attraverso o un'erogazione diretta di servizio del municipio quindi con del personale del municipio che si rega a casa e dà assistenza ai minori o attraverso delle cooperative a cui viene affidato il servizio e fanno più o meno lo stesso tipo di lavoro però in ogni caso l'accesso avviene attraverso i servizi sociali del municipio mi sembrava giusto darvi almeno come indicazione poi nello specifico Beatrice e Luigi saranno in grado di darvi tutti gli indicatori del caso Giuliana ha fatto bene a fare questa precisazione perché le cose che ha appena detto Giuliana sono esattamente dentro la scheda che trovate nel manuale e quindi a significare che la scheda è ovviamente molto più ricca di informazioni di dettagli che in parte ringraziamo anche Giuliana di averci fornito che non possono essere tutti riportati qua perché altrimenti faremo delle sessioni accademiche annuali e non giornaliere però ti ringrazio Giuliana perché è molto essenziale il tuo intervento e io in questo momento non ho altre domande scritte ad alcune ho risposto io per iscritto direttamente non ho nemmeno altre richieste di intervento ci sono altre richieste? bene non ne vedo non vedo scritte nemmeno richieste di intervento con la mano allora mi pare di capire che possiamo ringraziare con molta passione sia Salvatore prima che Beatrice poi per queste nuove aree tematiche inserite nel manuale dei diritti eh prendo atto che la richiesta che ha fatto qualcuno di avere un riferimento per quanto riguarda la questione della ehm Ucraina deve passare per le strade che il direttore Giustino ha illustrato all'inizio di questa sessione ricordo che questa registrazione come quella di ieri verrà inviata o domani o lunedì a tutti gli ehm iscritti a questo corso la persona che ha scritto che non ha ricevuto l'email di uno di ventotto o meglio la registrazione chiedo perdono con email dell'evento di uno di ventotto può richiederlo a centrostudi chiocciolacaritasroma.it e gli verrà immediatamente eh girato io se non ci sono eh altre cose e disattivo l'audio per tutti vi saluto e vi ringrazio aspettandovi la prossima volta di uno di ventotto Grazie a tutti.